SMA, acronimo di Spinal Muscular Atrophy, ma anche di senza mai arrendersi, che poi è il motto dell'associazione Progetto Noemi, ispirata alla grande coraggio di Noemi Scerretta, la bambina di Guardia Grele, affetta da SMA di tipo 1, dall'impegno di suo padre Andrea con il supporto delle istituzioni, si è giunti oggi a una giornata importante, l'inaugurazione del reparto di terapia intensiva pediatrica presso l'ospedale civile Santo Spirito di Pescara alla presenza delle istituzioni regionali, con il presidente Marsiglio, l'assessore Verì, i dirigenti sanitari dell'asile di Pescara, il sindaco, il direttore sanitario Massimiliano Raponi del Bambin Gesù di Roma, che fornisce un processo contributo nella formazione del personale medico e della ministra alle disabilità Alessandra Locatelli. Il reparto operativo dal 1 luglio e a pieno regime garantirà ben 10 posti letto. Ministro Locatelli, un sogno che si realizza, abbiamo detto prima con Andrea Sciarretta, questo del progetto Noemi. Sì, veramente oggi un'emozione grande, ma devo dire anche un orgoglio per vedere un territorio che si è saputo attivare e mettere in rete diversi attori per realizzare un progetto che veramente salva la vita ai bimbi, che è indispensabile, che non c'era fino a qualche anno fa e che nasce dalla volontà sicuramente di Andrea Sciarretta, progetto Noemi, ma anche dalla volontà poi della regione e di questo ospedale di accogliere, di sapere intercettare questo bisogno e di ascoltarlo anche. Un esempio importante anche da parte del governo, questo sforzo da parte dei privati in qualche modo, comunque di persone normali, di darsi da fare per sostenere il sistema sanitario? Beh, io credo che ormai per il futuro non si possa più prescindere da lavorare insieme istituzioni, enti del terzo settore, mondo privato e del privato sociale, cioè davanti a degli obiettivi importanti che abbiamo visto anche emergere durante il Covid, abbiamo lì saputo lavorare insieme, non dobbiamo smettere, dobbiamo continuare ad andare in questa direzione con degli obiettivi chiari e condividendo i percorsi migliori per dare questi risultati. Andrea Sciarretta, il sogno di Noemi si è realizzato? Assolutamente, il progetto Noemi sono anni, è un percorso che parte da lontano, ormai dal 2013, nel 2018 siamo riusciti a rendere operativo il primo ed unico reparto di terapia subvidenziale pediatrica esistente in Abruzzo che è in pediatria all'Astra di Pescara e oggi ci ritroviamo qui a completamento del percorso di cura per livelli di complessità a inaugurare il reparto di terapia intensiva pediatrica, l'unica esistente in Abruzzo attesa da decenni e siamo riusciti nell'intento. Fino a pochi anni fa non esisteva nulla di tutto ciò, non c'erano riferimenti sanitari e quindi noi cerchiamo sempre di mettere al centro il bisogno di chi vive la fragilità. Inoltre presenteremo l'opera di umanizzazione del reparto, l'isola dei colori di Noemi che è stata realizzata da Silvio Rilli di Ospedale di Dipinti insieme ai quadri di Noemi e su questo vorrei ringraziare sinceramente tutto l'Abruzzo, gli organi di stampa, i sostenitori perché siete stati voi fautori nel donare una carezza a chi vivrà all'interno del reparto. Siamo consapevoli che il sogno in verità è non vedere più famiglie lottare, bambini che lottano e il sogno è questo, rimarrà sempre questo. Fino a quando non sarà così noi abbiamo l'onere e l'onore di dotare gli strumenti efficaci, la famiglia e sostenerla. Senza mai attentesi!